Nel Vangelo di oggi preso da Giovanni al capitolo sesto dal versetto 16 e seguenti leggiamo sono io non abbiate paura dopo la moltiplicazione dei pani a sera i discepoli vanno dall'altra parte del lago è buio e Gesù non è con loro il mare è agitato a causa del forte vento in loro c'è timore misto a paura Gesù li raggiunge camminando sulle acque a dice e dice sono io non abbiate paura nella nostra vita ci sono tanti momenti in cui avvertiamo il buio della notte le avversità che avanzano e ci sentiamo smarriti e proprio in questi momenti che il Signore viene incontro a dirci sono io cioè ci sono Gesù non tira la barca arriva sono i discepoli che remano ma la cosa bella è che prendono Gesù sulla barca e la barca raggiunge subito il luogo dove era diretta Gesù non è una bacchetta magica che risolve i problemi ma è uno che si è accolto sale sulla nostra barca la sua presenza allora ci rassicura e noi troviamo le forze fisiche e spirituale per portare a compimento il viaggio a tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore